l'ho girata tutta la california paese per paese testimonianza di lorenzo blua detto lancin nato a desertetto di valdieri classe 1884 contadino qui una volta c'era niente lavoro non ce n'era la metà della gente non arrivava a farsi il pane le famiglie al minimo erano di sei figli certe ne avevano dieci dodici possiamo parlare di miseria nel mangiare non c'era un soldo di guadagno la gente lavorava bene la terra ma ci volevano le bestie che aiutassero e quelle non c'erano il pieno si portava tutto sulla testa andavamo a farlo su in montagna c'erano di quelli che non posavano mai il falcetto tutta l'estate dalla prima erba fino a quando nevicava tutto il vallone del colletto era curato fino alla chiesa fino alla madonna tutto lavorato a zappa patate segala lenticchie orzo biada uno quando si levava la fame andava bene vi dico solo pioveva sovente faceva le stagioni d'inverno neve enorme la primavera già calda la neve spariva ogni 24 ore c'erano due metri di neve faceva delle cantine sotto e là c'era già l'erba che spingeva e allora c'era tanta gente al desertetto mi ricordo io all'ultimo ciabot lassù verso la cava c'erano dai 23 ai 24 giovanotti e tante ragazze adesso è tutto deserto sì sì io sono nato al desertetto sono nato vicino alla cappella la mia famiglia era abbastanza numerosa tre maschi sei sorelle più padre e madre io ho cominciato ad andare al pascolo alle capre avevo sette anni andavo nei boschi su di là solo con 30 capre dal mattino alla sera mia madre mi aveva fatto una saccoccia per la merenda che portava a tracolla dentro avevo un pezzo di pane e di toma quando saltavo da una pietra all'altra la saccoccia mi batteva sui garretti e dicevo il pane mi fa male scalzo ero sempre scalzo passavo sui ghiaioni passavo sulle spine sentivo mai niente avevo una crosta spessa sotto i piedi le prime scarpe le ho avute a dieci anni e non potevo portarle non ero abituato mi davano fastidio alla domenica don marro di boves diceva la messa appena fuori dalla messa mi toglievo le scarpe le mettevo a spalle ho ancora portato i chambirun fino ai 15 anni tenevano caldo la suola era di pelle di asino o di cavallo i vecchi avevano un ferro apposta per forarla stracci attorno al piede e sulla neve andavo benissimo mio nonno raccontava che lui scendeva a cuneo con i chambirun e la slitta la lesa carica di legna in quei suoi tempi la gioventù non andava ancora in francia d'inverno lavoravano su nel bosco al taglio del faggio piante alte forti il primo del desertetto che è andato in francia io non l'ho più conosciuto era l'anno 1850 è tornato dopo l'inverno là si era guadagnato il pane così uno dopo l'altro hanno cominciato ad andare in francia non avevo ancora 16 anni e sono già partito per la francia a piedi attraverso il colle di ciriegia con altri tre abbiamo marciato fino a san lorenzo del bar oltre inizia e da lì poi siamo andati a san raffaele all'avventura si andava in francia senza carte così la polizia francese ci diceva niente finita la campagna con l'inverno restava più nessun uomo a baldieri il padre se aveva un figlio di 16 anni se lo portava dietro andavano tanto a lavorare nella zona di canne nei boschi a canne c'era una vetreria che bruciava le sucche de bruc i ceppi di brughiera e lì c'era molto lavoro lì lavoravano anche alla notte quando c'era la luna alcuni facevano il carbone le carbonere a san raffaele girando io e mio cugino abbiamo trovato un lavoro nella segheria del signor laudon 40 soldi al giorno 10 ore di lavoro dopo una coppia di mesi ho chiesto l'aumento gli altri prendevano tutti 50 soldi 10 soldi di più mi mantenevano il pane lui mi ha risposto tu e l'altro siete troppo giovani mio cugino era anche della mia classe e poi morto nel nord america giovani ma portiamo 10 ore al giorno i tronchi dentro e le tavole fuori a spalle di filata facciamo il lavoro degli altri le stesse ore allora pagatemi le due giornate che mi spettano e vado via no dovete dare gli otto giorni dopo gli otto giorni vi pagherò anche le due giornate che vi spettano e io non lavoro più perdo le due giornate che vi portino solo fortuna e sono andato via abbiamo girato nelle cascine alla fine siamo andati a raccogliere olive sono rimasto quattro anni in francia però tutte le stati venivo a vedere la mia famiglia i soldi li davo quasi tutti a mio padre ho fatto un po' di tutto in francia mio cugino si è impiegato in una bastida in una cascina 20 lire al mese e lo governavano io ho trovato lavoro da un certo munsurus un genovese uno che aveva disertato un bersagliere andavo su alla colla in montagna a tagliare il brook per fare le scope 20 lire al mese e trattato come povero poi sono tornato in piemonte per fare il soldato ho tirato il 98 la rosa era 140 il 108 l'ha tirato tendin e ha fatto tre anni negli alpini il 109 faceva solo due anni mi hanno messo nell'artiglieria da montagna tre lunghi anni se non era di mio padre e di mia madre io scappavo da soldato eravamo sempre sulla frontiera c'era solo da scendere della mia batteria è scappato uno solo l'idea di scappare mi è passata per la testa ma non ho voluto dare quel dispiacere ai miei genitori io ero troppo amante dei genitori altrimenti sarei scappato anzi sarei rimasto in francia io non sono mai stato volontario voilà vitegrame in quei tre anni sui montagna marce di 15 20 ore zaino di 30 chili i muli con 17 miri sulla schiena i muli più sono in salita più corrono mio caro lì attaccato alla cavezza poi quando i muli scendono il servente del cannone deve rompere i colpi del carico ogni passo uno strappone arrivavo che ero morto un lavoro inutile fare vite così per niente sì il pane sotto la vita militare era migliore di quello di casa ma le davano poco nessuno metteva pancia nel 1908 sono partito per l'america del nord per l'oklaoma con un mio cognato che era appena tornato dall'argentina non sognavo di fare fortuna chiedevo solo di lavorare e guadagnare qualche soldo mi sono imbarcato ad avr sul piroscafo chicago era vecchio e piccolo e ben pieno di migranti turchi arabi di tutte le razze mi pare di aver pagato 370 lire mangiavamo come i soldati dormivamo nelle cucciette sulle bigatere che erano ripiani fatti di assi usati per l'allevamento dei bacchi da seta a tre piani dovevamo arrivare a new york in otto giorni abbiamo avuto quattro giorni di burrasca straordinaria le onde passavano da parte a parte quando dondolava così non faceva tanta impressione ma quando le onde lo prendevano di punta allora il bastimento montava 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 allora dalle sedie dove eri seduto si staccava il culo e il bastimento faceva cric e crac ah christian pensate un po faceva solo più cento centocinque nodi in quei quattro giorni così abbiamo avuto due giorni di ritardo arrivati là noi della terza classe ci hanno sbarcati nell'isola castelgarda dove ci hanno passato la visita medica ci hanno guardati negli occhi poi in treno sono andato a makalista nell'oklaoma che allora si chiamava indian territori a makalista il paese delle miniere tutte le case erano di legno tante le case di quelli di desertetto di cugini di parenti abbiamo trovato desertetto in america era così avevamo gli indirizzi uomini donne famiglie e abbiamo continuato a parlare patois come se fossimo stati a desertetto abbiamo fatto festa a makalista è dove c'era più gente di valdieri specie delle borgate tra famiglie e tutti saranno stati cento di una famiglia sola c'erano cinque fratelli ho trovato subito lavoro in miniera solo nelle miniere si trovava lavoro la campagna era tutta deserta in campagna c'era solo qualche indiano e qualche nero in miniera c'erano italiani neri polacchi della polonia russa e austriaca e germanesca tanti della polonia le cave erano basse tutto a cottimo e un tanto a tonnellata più lavoravi più guadagnavi nel 1916 c'era la guerra ed è aumentato il prezzo perché c'era l'union una cosa seria l'union ci proteggeva senza la carta dell'union non si poteva entrare nella miniera se uno si ammazzava l'union faceva niente si interessava solo della paga per le disgrazie non c'era niente del tutto in questa miniera ho lavorato sei anni nel 1910 ho deciso di fare una gita attraverso gli stati uniti sono partito il primo aprile da makalista sono arrivato fino a san francisco volevo vedere l'america sei mesi ho girato la california e l'ho girata tutta paese per paese a grandemente bella bella la campagna e buona la terra la verdura cresceva talmente che si piegava troppa potassa nella terra poco distante da san francisco di california a santa rosa sono stato 15 giorni nell'hotel di un tirolese lì scavavano a fare canali c'erano tante piante di riundela di malva ma giganti le ho viste io c'erano delle piante di malva con due metri di radici in questi sei mesi io ho sempre marciato che ero un francese non ho fatto riconoscere nessun posto che era un italiano la i francesi erano tanto rispettati gli baciavano la mano al francese in tanti stati l'italiano non lo volevano perché l'italiano compra e vende il lavoro negozia e poi lo cede ad altri troppo camorrista sapete cosa dicevano bled deguidli non dicevano che erano bianchi gli italiani ma che erano come i neri i neri sono più bravi di noi italiani ma gli americani li disprezzavano nelle miniere ce n'erano pochi americani a lavorare negli anni della guerra 1915 18 ero là non volevo farla quella guerra hanno fatto un censimento di tutti gli italiani io il questionario l'ho compilato presso la mia miniera ho dichiarato che se l'italia mi chiamava non avrei risposto c'era troppo pericolo nella traversata per l'acqua per i bastimenti piuttosto parto sotto la bandiera degli stati uniti così ho ricevuto una cartolina verde mi avevano assegnato alla seconda classe come volontario e non alla quinta classe degli stranieri ma poi le miniere hanno fatto ricorso dicendo che se partivano tutti i minatori il tonnellaggio del carbone sarebbe diminuito e ce ne sono erati sono tornato a desertetto nel 1921 a fare una gita per vedere mio padre ma il 4 luglio hanno ratificato la legge che limitava l'immigrazione dall'europa non sono più partito quasi tutti i miei risparmi dell'america 7 mila dollari li ho perduti con il banco di sconto che è fallito nel 1922 è venuto il fascismo io non mi sono mai intrigato mai immischiato a qualcuno il fascismo ha dato vantaggio a me no il fascismo per la gente di campagna ha fatto niente ha fatto fallire un po di banche ma vuole sapere che cosa penso della vita di oggi la vita è cambiata ma è una vergogna un mondo di vagabondi e si parla di progresso era più salute nel mangiare quando mi sono allevato io che adesso che ti mangiano le bistecche tutto artificiale oggi non ci sono leggi c'è solo ladri ma così non dura succede una guerra mondiale il secolo si finisce ma non in bene il secolo si finisce distrutto succede una guerra mondiale guardate le formiche una deve ammazzare l'altra quando non c'è più posto nella tana i giovani di oggi a scuola non gli insegnano nemmeno come è stata la nostra vita cosa volete che sappiano quello che viaggia il mondo si istruisce di più di quello che ha le scuole perché la carta cosa si scrive sopra lo porta invece se uno vede impara capisce io viaggiando ho imparato a rispettare tutta la gente del mondo anche i neri che sono gente più brava più franca degli italiani la luna non ci credo che vanno sulla luna perché luna e sole sono due mondi inviolabili senza quei due lì il mondo è alla fine no no non ci credo grazie 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 grazie